Sale l'attesa per l'edizione 2016 della Final 8 di Coppa Italia di calcio a 5, che per il quarto anno consecutivo si disputerà in Abruzzo. I campioni della Serie A, quelli futuri dell'Under 21 e le stelle della Serie A femminile Elite saranno in campo dal 2 al 6 marzo. In Abruzzo, a Pescara e nel territorio circostante Pescara ci sono tutte le condizioni di passione, di affetto, di impiantistica sportiva, di organizzazione. Quindi per questo ormai questa Final 8 di Coppa Italia, femminile, di Serie A e di Under 21, che è un evento tradizionale che si svolge in Abruzzo. Quest'anno la divisione ha allargato anche il momento agonistico in provincia di Teramo, quindi con questa grande offerta del sindaco di Martinsicuro, del palazzetto, e quindi l'Under 21 vivrà tutta l'attività agonistica fino alla finale. È un motivo di orgoglio avere di nuovo qui la divisione e questa è importantissima manifestazione. Il segnale è che il movimento del calciacinque in regione rimane uno dei più grossi movimenti in Italia e con tre società in Serie A che ancora adesso si dividono la possibilità di vincere ulteriormente lo Scudetto e di vincere anche questa Coppa Italia. L'altro motivo d'orgoglio è la partecipazione alla finalette della società di Montesilvano di calciacinque femminile, che ci dà grandi speranze per ribaltare il risultato dell'anno scorso in questa manifestazione perché sta facendo un campionato a livello nazionale importantissimo. Quindi ci sono tutti i presupposti dal punto di vista tecnico, agonistico, ma soprattutto organizzativo, di offrire di nuovo con Pescara, con Martinsicuro e con Chieti momenti elevati di calcio giocato.